Un attimo, due minuti in piedi vicino, ho fatto il foro per me. Ottimo, bene, grazie, benissimo. Cominciamo con Sport Italia, vedi mister. Salve mister, sono qui. È questa la squadra più forte che l'è allenato in carriera? E le chiedo anche, considerato che c'è Jack Raspadori, che è un investimento oltre che un patrimonio del calcio italiano, se in queste giornate si è reso conto che Raspadori è un giocatore che può giocare ovunque, ma le sue potenzialità le esprime nel reparto offensivo davanti come prima punta o anche come sottopunta? Grazie. Prima di tutto volevo fare una precisione sul dopogara a Salerno, perché penso che è qua. Monica Scozzafava mi ha fatto una domanda. Sì, l'ho vista e la saluto. E quindi l'ho interrotto, perché mi è venuto qualcosa in mente, però che non c'era niente da vedere, né con la domanda, perché rispetto la giornalista che è, ottima, e poi niente da vedere neanche con la dichiarazione del mio capitano, che ho sentito dopo e che aveva detto che i problemi erano un parolone, qualcosa del genere, no? Non lo so, però non ci aveva neanche niente da vedere con la dichiarazione del mio capitano, solo per essere preciso. Quindi, due domande, come spesso, però visto che ho notato, forse posso rispondere. Le squadre sono sempre differenti perché non sono nello stesso momento, nello stesso campionato, non con i stessi giocatori. La cosa che posso rispondere è che questa rosa del Napoli è veramente molto forte e che la squadra del Napoli è anche una squadra forte, questo è ovvio. Su Jack, vediamo se si può tappare gli orecchi, però ovviamente da quando sono arrivato penso che abbiamo giocato 14 partite e è sempre stato protagonista, sia dall'inizio, sia entrando in gioco, perché so che è un giocatore che ha tanta qualità, lo sta dimostrando in questo momento, facendo dei gol, però può anche fare dei assist. La cosa che mi piace è che è un giocatore che gioca anche per la squadra, lega il gioco, difende e poi c'è tanta qualità anche offensiva per giocare a differenti posti e secondo me è ovvio che da 9 o da 3 quartista forse il suo rendimento può essere migliore, però secondo me, lo dico ancora, può giocare sia a mezz'ala sia a esterno d'attacco a destra o a sinistra. Non la prima parte, solo le domande. Sì, sì, non serve. Ah, ok, fantastico. Ok, la domanda è se è la migliore della squadra che ha il mister Rossi così fortemente trainato. E in questa domanda, cosa pensate di Rossi Padova? E, anche se non la domanda, la domanda è la migliore della squadra che è diversa. Io solo posso dire che questa domanda... Ok, ti parto? Prima di passare la seconda domanda di Monica Scozza Padova per il Corriere della Sera, ricordo a tutti, cortesemente, di una domanda a testa. Grazie. Alla domanda è una domanda diversa domanda. Ha diversi qualità, diversi qualità. Lo che devo dire è che questa domanda ha una molto grande qualità. E Rossi Padova ha anche molti qualità e qualità. Ha potuto vettere e anche stupere. Eccomi, salve. Le chiedevo se la sua riflessione su Lindstrom e se domani potrebbe essere un'idea di farlo giocare così da far rifiatare magari qualcun altro in vista della partita di campionato contro l'Empoli. Grazie. Allora, io sono sicuro che un campionato non si fa con un 11 titolare. e io odio anche questa parola, un 11 che inizia sempre e che finirebbe sempre le partite. Abbiamo per fortuna da un po' di tempo cinque cambi da usare noi allenatori e adesso possiamo incidere tatticamente anche sul risultato. però c'è il redimento dei giocatori e quindi per pretendere anche a iniziare spesso le partite ogni giocatore mio quando entra in gioco deve dimostrare che può aiutare la squadra facendo dei gol, facendo dei assist, difendendo bene anche nell'11 perché ci serve. e chi è più bravo a fare questo inizia più spesso degli altri. Per questo che sia Matteo Politano che Gwischa Gwaraschelia sono i giocatori che iniziano di più. Grazie. La domanda è la domanda di Gazzetta dello Sport. Buongiorno per Giacomo, l'hai sempre detto che avevi bisogno di continuità, di giocare più vicino alla porta per poterti esprimere meglio, adesso l'hai dimostrato che è la cosa più concreta che un giocatore può fare. Stai trovando una continuità che fino adesso non aveva avuto, tre partite consecutive in gol eccetera. Quanto questo ti dà in autostima, quanto ti fa convincere che quel ruolo non bisogna essere per forza dei marcantoni per poterci giocare? Io credo che l'avere continuità sia fondamentale per qualsiasi giocatore, sia che si tratti di un attaccante, che si tratti di un difensore. Quello è un aspetto che per chi comunque fa questo sport, riuscire ad avere continuità ti porta ad avere più sicurezza in te stesso, a stare meglio fisicamente, ad avere più brillantezza. Quindi penso che sicuramente è un aspetto che ti porta a poterti esprimere meglio. Poi è chiaro che per un attaccante, se si riesce anche a trovare più volte consecutivamente la via del gol, sicuramente ti dà ancora più autostima. Però, ripeto, penso che quello della continuità sia in qualsiasi ruolo un aspetto importante. Ok, la questione è sulla continuità dei giocatori. Tu hai sempre detto che hai bisogno di continuità, e ora hai la questione. E quanto è importante per il tuo autoconfianco? La continuità è un grande parte dei miei giocatori, e ho bisogno di tutti i giocatori, come tutti i giocatori, o i giocatori. Cronaca di Napoli. Potrete coesistere, dovrete tornare uno alternativo all'altro? Ma io credo che c'è qui il mister, quindi penso sia anche una domanda più corretta farla a chi prende le decisioni in funzione della squadra. Però, al di là di questo, come ho detto anche in altre occasioni, io per caratteristiche mie, al di là calcistica umana, sono sempre stato a disposizione della squadra, al servizio di quello che era il bisogno del momento. Quindi io penso che una grande forza di questa squadra sia quella di chi entra, chi gioca titolare, chi magari per una partita non gioca, di essere sempre a disposizione e pronto a dare il proprio contributo. Quindi, se ognuno di noi ha questa volontà di lavorare nel quotidiano, sapendo che il suo momento arriva, sicuramente può dare una grossa mano alla squadra ed è un valore aggiunto. Ok, la domanda è che tu avresti prima con molti altri italiani e italiani, e adesso, se Osemane riuscirà, vuoi essere solo un risultato? E il mistero decide, dice il mistero, e io sono sempre a disposizione, e faccio sempre la mia bestia. Corriere dello Sport. Buongiorno. Due fotografie della partita di Salerno per cercare di risolvere una curiosità. Il primo gol nasce da una riaggressione alta, pressing e poi verticalità. Nel secondo tempo, la sensazione di una squadra che o abbia gestito o abbia avuto invece problemi di tenuta. Se un errore mi corregga, altrimenti, eventualmente, come se lo spiega. Io penso che siamo stati migliori nel secondo tempo che nel primo, perché nel secondo tempo, ma tutta la partita non abbiamo sofferto niente. Mi dispiace di parlare di questa partita, perché adesso è Champions League, però diciamo che possiamo anche trovare delle cose da rimettere in campo domani, che abbiamo fatto bene lì, e secondo me il gioco, il gioco di prima, in triangolo, con movimento. Abbiamo visto delle belle cose offensivamente, possiamo appoggiarsi su questa cosa. Poi, come lei ha detto, sul primo gol, riaggressione alta, ha permesso a Stan Lobotka di fare un'assista a Jack. Poi, nel secondo tempo, abbiamo continuato a giocare, abbiamo anche iniziato molto bene, Palo, Parate di Ochoa, e poi sono contento che Eli Felmas, che è entrato, ha segnato, perché, come l'ha detto Giacomo, chi entra in partita deve dare il suo contributo difensivo, offensivo, c'è qualità sulla panchina, c'è soprattutto gente fresca, che può migliorare la squadra, ottenere almeno lo stesso livello. Però quando uno, e penso che siamo primi nella classifica di chi esce dalla panchina, segna o fa dei assist nella Serie A, e vuol dire che i giocatori, come l'ha detto Giacomo, si dimostrano pronti ad aiutare la squadra. Questa è una risorsa importante. Ok, dal spielo in Salerno ho due sentimenti. Nel primo gol c'è una questione del pressione o del druck. Nel secondo gol c'è un'altra cosa che la squadra ha controllo del gioco. e sì, il trener ha detto che in der zweiten Hälfte avevano spielo meglio. e come il trener ha detto che ogni spielo è fresco e spiela. un viaggio in test in della tabella dove l'estero di come la banca è in torsione. Repubblica. Sì, eccomi. Buon pomeriggio, eccomi. Buon pomeriggio. Vorrei chiederle quanto è importante la sfida di domani, quanto è difficile la sfida di domani, visto che con una vittoria di fatto vi avvicinate, penso, al primo traguardo stagionale che è quello degli ottavi di finale di Champions. Grazie. Ci avvicineremo prima se vinciamo e dopo dipende anche dell'altro risultato, però non sarà fatto niente matematicamente o qualcosa del genere. E quindi che vuol dire? Che dobbiamo vincere per forza. Noi sappiamo che nessuna gara è facile perché parliamo della Champions League prima di tutto e parliamo di un avversario che non è in un buon momento visto che è una striscia di sconfite importante però quando incontri una delle squadre che è qualificata in Champions League dei cinque campionati maggiori non può essere una piccola squadra. Quindi rispetto all'Union Berlin sappiamo che abbiamo avuto difficoltà a vincere lì però l'abbiamo fatto. Sappiamo che anche il Real Madrid ha vinto al 95esimo in casa contro loro 1-0 e quindi noi ci aspettiamo una partita difficile però la cosa che conta è che i miei giocatori sono sicuro danno il massimo e mettono il loro migliore livello individuale al servizio del collettivo e così vinceremo domani. in Berlin sono ancora poche effettivamente le partite giocate fino adesso ma secondo lei c'è effettivamente un cambio di rendimento tra le partite in casa e quelle fuori? Su questo domani ritroviamo il Maradona e dobbiamo fare di tutto per fare di nuovo che il Maradona sia una piazza forte per noi e quindi sì sono sicuro che con l'aiuto dei nostri tifosi che dall'inizio a stagione sono sempre stati fantastici ci aiuteranno non solo a vincere domani però dopo a vincere spesso quasi sempre così è il nostro obiettivo sono d'accordo ok e sono comunque meno spiele per questo ma ha la squadra si è cambiato e la stima e l'atmosfera nel stadio il trainer dice che ci saranno e magari anche con l'hilfe dei fanci che per noi è molto importante per Giacomo ciao buon pomeriggio ciao grazie alla vostra qualità voi praticamente si può dire che riuscite a segnare in ogni partita però andando a guardare un po' i numeri la percentuale realizzativa in realtà potrebbe migliorare che cosa pensi che si potrebbe fare per salire anche in quest'altra statistica grazie ma io credo che ci sia sempre da migliorare quindi la mentalità deve essere quella di pensare che anche se si è il miglior attacco la miglior difesa deve essere quella di sapere che ci si può sempre migliorare nell'ultima partita ad esempio abbiamo avuto secondo me tante situazioni per magari poter segnare di più abbiamo sbagliato qualche scelta abbiamo trovato un portiere che ha fatto delle grandi parate quindi sicuramente dipende anche da partita a partita io credo che per vocazione siamo una squadra che è portata a creare tanto è portata ad avere tante occasioni quindi anche se comunque i gol li stiamo sempre facendo dobbiamo avere nella nostra testa quella cattiveria chiaramente agonistica che ci può portare a sfruttare ancora di più quelle che sono le nostre caratteristiche gegen noi una buona professionale ma anche umano e se ti ha insegnato qualcosa in più in termini tecnico-tattici grazie sicuramente mi ha dato tanto a partire dalla stima e dalla fiducia nei miei confronti il discorso che si faceva anche prima legato a quella che è la continuità avere la fortuna e comunque anche la bravura tutti i giorni nel dare il 100% ha portato a me magari da poter essere utilizzato in più ruoli e questo grazie alle scelte del mister che mi hanno permesso di pur magari cambiando ruolo avere sempre la continuità di essere messo in campo, di essere al servizio della squadra, quindi quello è un aspetto che credo che al di là di quello che possa essere il ruolo, di quella che possa essere la posizione in campo, ti dà tanto e ti dà la continuità la freschezza, anche quella brillantezza nelle scelte che se uno ha la continuità di rimanere all'interno del campo il più possibile si riesce a migliorare è difficile anche perché loro saranno chiusi e l'inserimento delle mezzali può essere importante con l'aiuto anche di Jack che è bravo a dialogare e servono qualche gol forse anche delle mezzali Sì, sì, una riflessione interessante sul piano tattico pensiamo che l'Union Berlin arriverà normalmente con il suo modulo gioco diciamo abituale a tre in difesa o a cinque in difesa o a tre nel centrocampo o due davanti o due mediani e tre attaccanti però abbiamo visto anche che in Coppa della Germania hanno giocato a quattro e quindi i nostri giocatori prima ci dobbiamo concentrare su di noi e poi dobbiamo sapere dare problemi a qualsiasi sistema di gioco avversario anche nel pressing alto quindi dobbiamo essere pronti anche a un cambio di modulo gioco dell'avversario però per rispondere precisamente alla domanda soprattutto quando giochiamo con Jack Punta che a lui piace venire incontro i spazi che libera lui le devono prendere gli altri e mezzaio possono fare mi ritrovo con un'occasione di Jens Cajus penso che è a Verona dove Jack è venuto incontro ha spizzato la palla per Jens che è andato al gol quindi sì lo lavoriamo dobbiamo avere forse un po' più di questi inserimenti un po' di più di profondità anche quando c'è poco spazio dietro alla difesa giusto ok Union top wird vielleicht morgen geschlossen spiella bravo di Tore aus den Spiella die aus den Seiten spiella also ich habe viele Sturme mal schauen wie es morgen laufen wird ich habe l'ultimo Spiel sogar in Pogal bei Union gesehen aber erstmal müssen wir an uns konzentrieren und dann an die enderung der Tatik der anderen Mannschaft Canale 21 si la domanda è per Garzia salve la partita di domani è importante l'ha detto anche lei bisogna vincere perché comunque significherebbe avvicinarsi ad un piccolo traguardo seppur non matematico le chiedo quanto è importante in un momento del genere avere vicino seppur non disponibile fisicamente un giocatore come Victor Rosimane rientra domani quindi lo lo ritroveremo però non disponibile ovviamente e quindi come ho già detto io mi concentro sui giocatori che sono alla mia disposizione abbiamo ritrovato Frank Zambonghissà Juan Gesù sta tornando anche lui quindi piano piano spero che sarà così ancora per tanto tempo abbiamo un'effermeria che si sta svuotando però per domani servono chi è in campo e chi può aiutare la squadra durante la partita quindi 23 che saranno convocati io conto solo su di loro per sforzare domani dall'inizio il fatto di dare tutto in campo e di darci le migliori opportunità per vincere così vogliamo fare ok ok affinché tu giocando come punta centrale non possa ballare in mezzo ai centrali loro quanto ti è più utile che la mezzala come Zilischi come accadeva l'anno scorso si alza per dettare il pressing alto sicuramente quando si trova una squadra che in fase difensiva cerca di chiudersi e ripartire come è stata nella partita dell'andata con loro riuscire a trovare quelle linee di passaggio tra le linee che in questo caso può essere io che mi stacco e qualcuno che va alle mie spalle o chi farà la punta chi sarà tra le linee come mezzala come esterno quindi io credo che è una chiave di gioco quando si gioca questo genere di partite sia quella di riuscire a muoversi tutti insieme non dare punti di riferimento sicuramente quella della mezzala che va in tre quarti è una soluzione che potrà portare a qualcosa però ci sono vari momenti della partita che vanno interpretati quindi lì la bravura starà a noi nel capire quando sarà il momento giusto per attaccare la profondità quando sarà il momento giusto per riuscire a fraseggiare tra le linee quindi sicuramente non sarà una partita semplice io credo che la cosa più importante sia l'approccio dei primi minuti ok ciao Jack qual è il pregio del mister Rudy Garcia che vi lascia sereni e concentrati per poter affrontare magari come obiettivo quello della qualificazione in Champions ma in campionato di pensare sempre che siete i campioni d'Italia e potete lottare fino all'ultimo per vincere lo scudetto io penso che una delle cose fondamentali che dal primo giorno ci sono state trasmesse sono il fatto che dobbiamo nella nostra testa non dico cancellare di essere campioni d'Italia ma di alimentare questa cosa ok il sentimento di essere l'Italia ma di aiutare può aiutare sì non lo dovremmo non lo perdere ma comunque bisogna proseguire e vedere e questo sentimento aiutare ci aiutare ci aiutare buon pomeriggio mister buon pomeriggio Giacomo la domanda è per Raspadori Luca Cerchione One Station Radio parto con un dato statistico delle 14 presenze a cui faceva prima riferimento il mister dieci le hai fatte con Osimen un solo gol e un assist quattro senza Osimen tre gol e un assist hai capito che sei il vice Osimen lo hai appreso l'hai fatto tuo questo ruolo ma io penso che in questa squadra non ci sia nessun vice di nessun altro le scelte che vengono fatte sono sempre in funzione di quello che il mister ritiene che sia la scelta più giusta per la squadra che sia la squadra migliore che può scendere in campo per affrontare l'avversario quindi la mentalità di noi giocatori deve continuare ad essere quella di non pensare che nessuno sia il vice di nessun altro ma sapere che ognuno può dare il proprio contributo per la squadra e questo tipo di mentalità credo che possa solo che giocare a tutti quindi questo credo che sia il pensiero sicuramente mio ma sono consicuro che sia anche quello dei miei compagni ok in dei ultimi 14 spielli ha 10 spielli con Oseman e 4 spielli con Oseman spielli e le stagioni varie diversi e la questione è se hai l'impression che sei un ersato da Oseman o non e il giocatore mi ha detto che non la scelta se spiella o non e credo il giocatore e se considera che mi ha è la prima volta che finisce in pari in una conferenza UEFA il numero delle domande quindi complimenti a Jack 7 a 7 bravi arrivederci ciao arrivederci a tutti